Fast fashion è la moda del popolo, quindi gente che non vuole spendere tantissimo, vuole apparire in modo molto giusto, fico, con dei costi abbordabili. Cos'è il fast fashion? Sono nel centro della moda italiana, a Firenze per il PT Uomo, è una manifestazione che richiama tutti gli addetti ai lavori di questo settore e sto facendo delle domande che riguardano il fast fashion, la tendenza delle grandi catene d'abbigliamento a produrre decine di collezioni in un anno. Cos'è il fast fashion? Il fast fashion? Non ne ho idea, che roba può essere il fast fashion? Cos'è il fast fashion, il mondo della moda? Fast fashion? È una novità qui del PT? No. Cos'è per me fast fashion? Sì. È il cambiamento continuo delle novità, delle collezioni, sì. Ma è giusto, è sostenibile? Sostenibile no, è giusto neanche in realtà. Perché? Why? Perché cambia continuamente, quindi non è giusto per i designer che sono cambiati continuamente, non è giusto per le persone che stanno producendo la moda, quindi no, non è sostenibile. Fast fashion? No, non ho idea. Siete tutti i vestiti fashion? Cos'è il fast fashion? Sarà un fashion veloce. Fashion veloce. Veloce, anche secondo me, fashion veloce. Per te, fashion veloce. Fast fashion? No. Visto che siamo qua al PT, l'uomo che riguarda la moda, che cos'è fast fashion? Che cos'è? No. Se siamo troppo fashion e la moda? Sì. Eh. Fast e fast. Rapid, veloce. Eh. Fast fashion è la cosa più importante al futuro di moda del mondo. È giusto? Sicuro. È sicuro, sicuro, non ci dubbi. Con l'industria della moda, dell'abbigliamento, è un'industria etica, sostenibile oppure è diventata un'industria, diciamo, pesante, che ha un impatto molto alto sull'ambiente? Ma, dipende dall'industria, dipende dall'industria, ovviamente. No, secondo me non ha un grosso impatto sull'ambiente. L'industria della moda è sostenibile ambientalmente, anche proprio a livello di lavoratività? Oggigiorno sì, sono molte norme che, diciamo, ha sostegno. Non c'è sfruttamento per fare magliette, jeans, di paesi emergenti? Sì, ma questo possiamo dire che è quello che riguarda la globalizzazione economica e quella che è la delocalizzazione di queste grandi imprese che stanno spostando impianti produttivi in paesi in via di sviluppo. Fast fashion è essenzialmente una parte dell'industria della moda, del pret-à-porter, che punta a un mercato di larga produzione, quindi una minor qualità, ma un abbassamento del prezzo e quindi una vendita su larga scala, essenzialmente. Ovviamente conosciamo tutti i problemi, eccetera. Cos'è il fast fashion? Fast fashion è la moda veloce che si consuma rapidamente. Siamo al Pitti, fast fashion. Non lo so. Tu? Non lo so neanche io. Fast fashion? No. Mai sentito parlare? No. Una moda veloce ma con un pizzico di intelligenza nell'abbinare i colori e nel farli vivere bene assieme. Il fast fashion abbatte un pochino le possibilità di diversificazione, spinge un po' verso la massificazione della moda. È un po' l'opposto di quello che secondo me si propone a Pitti Uomo, tra servizi su misura e tentativi invece di personalizzare e di creare il più possibile un capo che sia unico per la persona. Il mondo della moda, dell'abbigliamento, è un'industria sostenibile per i lavoratori, per l'ambiente, anche per la produzione? Sì, lo potrebbe essere sicuramente se fatto con cognizione, però il fatto è che è un mondo pieno di improvvisazione e forse questo è un problema. Che cos'è il fast fashion? Non lo so. È facile, fast fashion. Siamo al Pitti Uomo. Fashion veloce. Fashion veloce. Fast fashion. Fast fashion. Questo mese credo che sono colori. Come potete vedere, mi piace anche colori. Quindi sì, questo sarebbe così. E il giallo. È un colore molto importante. Per quanto riguarda invece produrre decine di collezioni in un anno, come fanno le grandi catene di abbigliamento, ha senso oppure se bisogna secondare il mercato? In un mondo come questo purtroppo sì, compatibilmente con la nostra vita, è ovvio che purtroppo sì. Fast fashion? No. No, assolutamente no. Fast fashion. Buonissimo. Very good. Very nice. No, guarda, io non... Fast fashion. Non me lo intendo. Do you know fast fashion? No. No. Raga, fast fashion. Fast fashion. No, not really, no. Fast fashion no. È un po' difficile di rispondere, però posso dirti che sono contento di essere venuto qua perché è stato bellissimo, però se mi fai una domanda così ti posso rispondere veramente con difficoltà. Hai mai sentito parlare? No. Penso sia una moda veloce, non c'è più una collezione autunna, una collezione estate, ma che vengono tirate fuori collezioni su collezioni capsule collection, eccetera, penso sia questo il fast fashion. Fast fashion? No. Siamo al Pitti Uomo, il centro della moda italiana. Giusto, sì. Fast fashion? Sì, bene. Per me il concetto fast fashion è una moda veloce, diciamo, un po' rapida, anche di trovare pezzi, diciamo, articoli vecchi, rivisitarli e fare, diciamo, una cosa un po' veloce così. What is fast fashion? Do you want to answer that? Fast fashion è una moda veloce, una moda veloce che comunque ha un picco alto per un e a un certo punto smette e ne parte un altro. Ma cos'è fast fashion? Sì, certo. È il pronto moda, quello che si definisce pronto moda. Se vuoi assecondare il mercato e i gusti della gente, sì, per forza, devi farlo. Do you know fast fashion? No. We have slow fashion. Slow fashion, sì. Slow fashion. Sì, ok.